Signor D'Alessandro, qual è il motivo di questa protesta? Il motivo di questa protesta è quella che negli anni non siamo riusciti ancora a fare sbloccare l'amministrazione comunale, a mettere a disposizione tutto quello che dovrebbe, cioè alloggi chiusi, alloggi da ristrutturare, alloggi che potremmo dare almeno risposta minimo all'emergenza, cosa che a tutt'oggi, oltre il puparlè fra di noi e fra le richieste avanzate e le discussioni per cui sono tutti disponibili, però è rimasta solo la disponibilità, i fatti sono quelli che a tutt'oggi noi non abbiamo neanche un alloggio da poter dare.